Sono una persona onesta e non permetterò a nessuno di dubitarne. La idem era stata risoluta in conferenza stampa, ma ora quel nessuno sembra già diventato un qualcuno con nome e cognome Enrico Letta. Gli porterò le carte, dice al Corriere della Sera, gli spiegherò bene come sono andate le cose e sono fiduciosa che capirà tutte le dinamiche, lascerò decidere a lui. Il quale Letta ieri per la verità si era dimostrato non proprio granitico nel difendere le ragioni della sua ministra. Dobbiamo essere garantisti e garantire opportunità e rispetto delle regole, aveva detto in tv, nessun doppio standard. Ed ecco così la posizione idem farsi ancora più vacillante, rafforzando l'idea che la zona più calda di questo governo sia quella delle pari opportunità. Dopo Michaela Biancofiore, cui Letta aveva tolto le deleghe da sottosegretario, ora a perdere la poltrona potrebbe essere proprio la titolare del di Castero in persona. Per via di una vicenda che, date alla mano, sarebbe imputabile non alla casta, ma alla tanto celebrata società civile, di cui la idem faceva parte prima di venire cooptata, in virtù delle sue canoistiche glorie, a incarichi politici. Lei parla di massacro, di clima, di linciaggio, di una vicenda assurda, ma certo è una vicenda che travalica ogni ragione di appartenenza politica, visto che ferma restando la mozione di sfiducia di M5S e Lega, dalla larga maggioranza si levano voci contraddittorie. Per un Brunetta favorevole a soprassedere, chi non ha mai fatto un errore, dice, c'è una Sant'Anchè che la mette decisamente in rampa di lancio. Cose incompatibili con la sua immagine di campionessa entegerri, ma dichiara, aggiungendo poi anche quel ministero spetta al PDL. Ipotesi future, a parte, un'altra campionessa, la Vezzali, di scelta civica, allunga sull'idem la sua stoccata. Sono convinta che qualsiasi cosa abbia fatto, Iosefa lo abbia fatto in buona fede, ma in questo momento di richiesta di rigore è importante dare il buon esempio. Allineato su Brunetta si ritrova invece il PD Ivan Scalfarotto, che fa rientrare il caso idem nella zona a lui cara, quella dei diritti civili. L'essersi esposta senza troppe cautele a difesa delle donne e delle persone omosessuali e transessuali, dichiara, ha trasformato Iosefa idem nel bersaglio perfetto di chi ha interesse a fermare il progresso dei diritti civili nel nostro paese. Chissà se per decidere Letta guarderà la cosa dalla stessa prospettiva. Letta guarderà la cosa dalla stessa prospettiva.